Siamo venuti nel Wall Street Center, speriamo che non arrivi un aereo qui. Adesso andiamo dall'altra parte, magari è ancora più figo. Adesso andiamo dall'altra parte, magari è ancora più figo. Non so, pensavo di vedere... Non ci sono le piscine sopra i palazzi? Le piscine d'inverno? Vabbè, magari... Ma sì, quelle piscine sui palazzi... Comunque è abbastanza alto. Andiamo di là. A fuoco figlio. Perché a voi ho torri di fuoco. Credo di tu. No, però un po' li ha somminato di fuoco. Ma c'è sempre il forte fuoco. Praticamente cosa serve? Ma cos'è quella roba con la luce che lampeggia? A sinistra... Ci sono dappertutto le luce che lampeggia. No, c'è una cosa come una salva rossa. Sotto il palazzo verde... Guarda, c'è l'albero disegnato nel palazzo. Ah, quella roba alla piccolina alta? No. Cosa è il palazzo con l'albero? La finestra verde. Vedi? In basso a destra. Cos'è? In basso a destra? Quello per terra? No. Ma cos'è? No. Sembra tipo un percorso. Ma c'è un albero di metallo anche lì per terra? Uno verde, tra le piscine rosse. Qui siamo praticamente al sud. No. No. Ovest. Che cazzo dico? A ovest. No. In queste sud. Laggiù. No. Qui c'è un megaponte. Che faremo? Chissà. Chissà quando. E laggiù c'è la ruota panoramica. È ferma però? No, si muove pianissimo. Che figate belle piotte. Non si muove le porco qua. Non c'è nessuno. Dove dentro? Ora è fresa. Guarda che li faccio vedere. Guarda che li faccio vedere. La tutti è diverse perché tutto non ci ha già usato. Non ma come vuoi. Non ci faremo l'ingliente. Questa non ci faremo. Ma a il giro del ruoto? Non ci faremo bene? Non, non ci faremo. però è sicca è sicuro questi toni chiaroscuri che alluminano veramente adesso il cuore è ecco adesso lo sento è scritto qualcosa no no e cosa c'è questo puttellino? non si vede niente praticamente un posto rustico dentro al metropoli non Grazie. 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 Come hai fatto a capire dopo i pasti? Ma dite l'inglese. Però sono figlie. Non sembrano le caramelle. Perché le caramelle non sembrano le medicine. E' tutto molto... Dopo mangiato la prendo, no? Due ne devo prendere insieme.